In questo nuovo video io sono come sempre HydroStorm e ben ritornati nel mio canale Allora come vedete io sono in un nuovo gioco 9 a 3 Allora come potete vedere ho fatto una partita per vedere com'era il gioco Infatti ora sono al capitolo 2 Ora dobbiamo sparare a questi nemici Cavolo allora abbiamo solo 10 colpi in totale quindi è meglio non sbagliarli Allora scambio subito l'arma per mettere i quali 2 così io li uccido dall'alto perché penso che se spara li uccidiamo Allora facciamo ritornare il fucile di precisione non dobbiamo svegliare un colpo Ecco 1 ed ecco 2 Allora se usiamo il lanciarazzi penso di no Allora miniamo e fuoco Fuoco Allora 3 non ce ne sono quindi è meglio uno con il lanciarazzi E l'altro lo facciamo con il fucile di precisione che abbiamo solo 3 colpi E come potete vedere ora li spariamo non lì ma li spariamo lì Così muoiono subitissimo e ne mancano uno fuori Dovrebbe esserci l'altro lì Ci abbiamo solo un colpo Speriamo sia quello giusto Fuoco E ce l'abbiamo fatta Sono riuscito a superare questo pezzo Allora Bene ci hanno dato anche questo Ora ritorniamo sul pietaconda Che si dovrebbe fare tornare alla posizione Allora ci stanno attaccando queste sottospecie di mostri Come vi avevo fatto vedere prima Come vi ho fatto vedere nel livello cavolo C'è un bombardato Cosa c'è? Siamo nella seconda guerra mondiale Ci bombardare alla testa Aiuto Eccoli Iniziamo lì a sparare un pochino Allora Meglio fare una granatina così Oh che arma c'è? Oh la c'è granate Ho 12 di lancia granate Quindi non spechiamoli Vai Dissui uccidiamoli Allora migliavoli e fuoco Allora Come penso Fuoco 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 Infame Infame Bastardo Allora Vediamo lì Fuoco 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 Allora grazie che mi hai distrutto Fuoco Fuoco L'ho ucciso Allora Dov'è l'altro lì? Fuoco Dissrutto E l'altro l'hanno già battuto Però come vedete là ci sono molti nemici Quindi Sapete io cosa vi dico? Lanciarazzi È la soluzione a tutto Ovviamente a quelli lì non è la soluzione a tutto Ma grazie a voi Che me li uccidete Allora Quello lì Fuoco Uno Ok ci chiede Di ritornare indietro Quindi noi ci andiamo indietro Ok Nel mentre di carico Allora Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire sul Mac Ora vediamo Faccio un spacco di vasso Mamma mia Mamma mia Che spacco di vasso Ora che faccio Sì Era come ti pensavo Allora Questo cosa fa? Lancio un missile Questo Spara Bene Allora Non è che abbiamo tanta vita Allora Ci ho ancora Oh mio dio Spara 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 No che loro sparano La torretta Allora diamoci Fuoco Allora scusate per questi rumori Se faccio alcune pause Ma perché c'è l'officina Voglio aiutarmi Che c'è proprio l'officina Allora Ambiamogli quel nemico E spariamogli Tutta la manetta Bom Di sotto Ci hanno pure I meccanismi Sidiotti No No sti idioti Dove fai Dove fai Dove fai Ah ma lo raccomando io Ah Mitragliette Mitragliette Gocò Non vedo un accidente Cavolo Cavolo Facciamo Distruggere Oh Oddio Mio Meglio distruggere No cavolo Ci hanno distrutto Per fortuna Che ci fa salvare Sempre riprovare Per fortuna Veramente Per fortuna Allora Siamo a 6 minuti 12 di Registrata Non mi piace andare a lavorare Ah Pure di lì Pure qui La pubblicità Mentre aspettavo Questo gioco Non è Non è uno di quei giochi Che si fa Assaltare Ovviamente guardare Tra il salto La pubblicità Il tempo della pubblicità Guardate Che casualità Ora siamo qua Spacchiamogli Distruggiamogli Volevo dire Allora Siamo qua Fuoco Lancia il missile E iniziamo ad uccidere Ora dovrebbe arrivare Lì per terra L'auto Fuoco Boom Distrutto Distrutto Allora Mi diamo fuoco Mi diamo Spara 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 fuoco Ok Quale mitraglietta Non ci dovrebbe Di più fastidio Questa si però Non c'è più La mitraglietta La mitraglietta Vanno via Fuoco 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 Mamma Non mi ingegna Nessun No Cavolo Cavolo Dai Si Distrutto Un mech Questa macchina Riesce pure A distruggire Un mech Ok Siamo saliti Su un ponte Che mi sembra La golden Semplice Anzi È il golden State bridge Perché di fatti Come avete potuto Leggere dagli inizi Siamo proprio A san francisco Sede dove c'è Il golden State bridge Allora noi Spariamo così Alla cavolo Di cane Perché sapevo Di fatti Che c'erano Delle macchinine Potrebbero Significare Che sono Le micro Machines Ok Mirato fuoco Speriamo che Non becca L'auto Perché Doveva Beccare Proprio L'auto Qual Missile Ci sono Solo Dei semplici Ciotti Nemici Non dovrebbero Essere Un problema A parte Se non arrivano Gli stronzi Fatati Come avete potuto Vedere prima Un altro Mac Va fuori anche Questo K Uno E bom È andato giù Allora Non ci dovrebbe Essere nessuno Giusto No No Non ci dovrebbe Essere nessuno Guardate com'è La terra La terra Tutta distrutta Ovviamente Qua ci fa fare Progressi Salvati Ciò ci fa caricare Così almeno Possiamo Rigiocare Partendo da questa Prata Perché di sicuro Ci sarà qualcosa Che di sicuro Ci farà Incazzare Come Non mai Ovviamente Qua è veramente Un bel gioco Però è per Cellulari Più potenti Di come Potete Di come potete Vedere Ah forse Si può cambiare Anche la visuale Allora Ora Non ce ne sono Stinger 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 Cuoco È vero Ci sono anche Tizi fatati Come li chiamerò io Questi sono Dei tizi Rompipalle Assurdi Perché volano E sono diversi Da quelli Ormai Però io Continuo a sparare Spara 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 Come se non ci fosse un domani Fortuna che abbiamo Le munizioni Finite Per fortuna Che andrà Non ci abbiamo fatto niente Allora Progressi salvati Vedo delle torrette Io no Lui si Boom Io ho fatto Lo spacco De vasto Pum Distruzione Totale Guardate Com'è distrutta Da San Francisco Mamma mia Ha una grafica Che direi È tra le Migliori Di molti Dei giochi Che ho io Infatti è eccezionale La storia è molto Coimulgente Ci sono 11 missioni Che Non hanno Una breve durata Come dovrebbero avere Ma invece Sono più lunghe Direi che Quando Siamo finiti Di scendere Da questo Travicolo Che più o meno È una Una cosa Di istruzione È un beca Due ruote Bene Siamo arrivati qui Voglio che tu copra L'entrata Bene Siamo Siamo arrivati Bene Il prossimo mercoledì Riprenderò Con questa cosa Con Nova 3 Bene Lasciandovi Con queste immagini Di alcuni Volteriti Che mi attaccano Io riesco a uccidere Uno Lo scoop Ovviamente Mi aiutano Da qui Lasciate sempre Un like Iscrivetevi Se non siete Ancora iscritti Bella lì ragazzi Qui da Hydra Passo E chiudo E chiudere